ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerò i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco ti calma compresse rivestite che le matesse rl ultimo aggiornamento 15 settembre 2022 cos'è ti calma compresse rivestite confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere ti calma compresse rivestite durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinettiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci esterico seti calma compresse rivestite ti calma compresse rivestite è un farmaco a base del principio attivo valeriano estratto idroalcolico secco appartenente alla categoria degli ipnotici e sedativi digitali e nello specifico altri ipnotici e sedativi è commercializzato in italia dall'azienda che le matesse rl ti calma compresse rivestite può essere prescritto con ricetta otc medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco confezioni ti calma 100 mg 30 compresse rivestite informazioni commerciali sulla prescrizione titolare che le matesse rl ricetta otc medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco classe c principio attivo valeriano estratto idroalcolico secco gruppo terapeutico ipnotici e sedativi vegetali forma farmaceutica compresse rivestite indicazioni blando sedativo anche per favorire il riposo notturno posologia 12 compresse rivestite tre volte al di non masticare le compresse ingerire la compressa intera aiutandosi con un sorso d'acqua si consiglia la somministrazione delle compresse rivestite dopo i pasti principali e la sera prima di coricarsi non superare le dosi consigliate popolazione pediatrica l'uso nei bambini al di sotto dei 12 anni è sconsigliato poiché non sono disponibili i dati sull'efficacia e sicurezza del farmaco in pediatria controindicazioni per sensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi dei componenti avvertenze speciali e precauzioni di impiego poiché non sono disponibili i dati sull'efficacia e sicurezza del farmaco in pediatria l'uso di questo medicinale non è raccomandato nei bambini di età inferiore ai 12 anni se i sintomi peggiorano vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione sono disponibili solo dati limitati sulle interazioni farmacologiche con altri medicinali non è stata osservata un'interazione clinicamente rilevante con farmaci metabolizzati dal cito cromo chip 2d 6 chip 3 a 4 5 chip 1 a 2 chip 2 e 1 vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it assumere ticalima compresse rivestite durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere ticalima compresse rivestite durante la gravidanza e l'allattamento la sicurezza durante la gravidanza e l'allattamento non è stata stabilita come misura precauzionale a causa della mancanza di dati l'uso durante la gravidanza e l'allattamento non è raccomandato vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari l'assunzione di preparazioni a base di valeriana può ridurre la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari effetti indesiderati sintomi gastrointestinali ad esempio nausea crampi addominali possono verificarsi dopo l'ingestione di preparati a base di radice di valeriana la frequenza non è nota se si verificano altre reazioni avverse non vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it sovradosaggio la radice di valeriana ad una dose di circa 20 g causa sintomi lievi affaticamento crampi addominali sensazione di leggera vertigine oppressione toracica tremori alle mani e midriasi che scompaiono nelle 24 ore se i sintomi compaiono si deve instaurare un adeguato trattamento a causa di elevato sovradosaggio è verosimile ammettere effetti deprimenti sul sistema nervoso centrale proprietà farmacodinamiche categoria farmacoterapeutica ipnotici e sedativi codice atc n 0 5 cm 0 9 il principio attivo contenuto nella radice della valeriana esplica una blanda azione sedativa sul sistema nervoso centrale proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti amido lattosio pvp talco acquacoat cpd dietilftalato saccarosio gomma arabica titanio di ossido cera carnauba fonte foglietto illustrativo aifa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato